E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, qui su Warhammered and Vermintide con il grandissimo amico Sir Matex. Ciao a tutti ragazzi e tu, bella ragazzi, oggi ci troviamo finalmente insieme in, diciamo dopo l'ultimo video che ho fatto io insieme al grande Mujah. Grazie caro, io col grande Sir Matex, grazie mille, se metti ready partiamo, intanto facciamo vedere, quindi Sir Matex hai un abbigliamento fighissimo, devo dire, proprio da Sir Matex, quindi questo gioco ci sta prendendo un casino, stiamo giocando, ci ritroviamo molto spesso e volentieri. Colgo l'occasione perché oggi proprio è uscita una patch di 800 MB dove praticamente è stata inserita una nuova mappa, proprio questa che stiamo facendo, dove una mappa che stiamo facendo insomma per la prima volta, giusto? Sì, sì, prima volta anche per noi proprio, mai vista, vediamo cosa ci riserverà insomma. Il gioco si presenta difficoltoso, quindi bisogna molto spesso collaborare ovviamente, altrimenti si finisce proprio prima di iniziare o no? Sì, 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 no, ma come è giusto che sia, infatti, mi ricordo il vecchio Boom Left 4 Dead, cavolo, era così, punitivo a massimo, lo è anche questo, lo è anche questo ragazzi, vi dico, quindi, devo dire però l'ambientazione secondo me è superiore, è bellissima, l'idea fantasy. Tra l'altro se Mattex ci vuole raccontare le cose meglio perché so che lui è un appassionatissimo della serie Warhammer dove dipingeva anche delle statuette, proprio il gioco cartaceo, si dice così? Sì, sì, no, è proprio il gioco da tavolo quello che era di Warhammer e chi come me oltre a livello di videogame, di quello che è come tutti conoscono più che altro a livello di videogame, il 40.000 degli Space Marine e tutto, c'è anche la versione, quella che era il fantasy del gioco da tavolo dove erano stonoste miniature da montare. Grandissimo, gra, 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 grande appassionato. Uno può pensare, quando uno non c'è un cazzo da fare ragazzi, bastardo, non è bello. Oh, Sir Mattex, guarda qui il mio fucile, che fucile lungo che ho, eh? Oh, merda, ecco il... Mentre, vedi, ragazzi, qua non si può giocare, qua non si può scherzare ragazzi, avete visto? No, dobbiamo fare i seri. Dobbiamo fare i seri e pestare perché se no qui... Volevo farti vedere il mio lungo martello, cerca di non capire male. Questo nano, questo nano è terribile. Oh, ci stiamo spingendo in una specie di galleria, qua. Quindi stiamo scendendo sotto. Oddio, quando sento queste voci sono il gruppo di bastardi che picchiano come... Oh, no, no, dove cazzo sono? Una bomba ragazzi, eh, la prendo. Ho preso una bomba. Che cazzo è un passaggio segreto? Dai, non ci credo. Oh, merda, no, hanno preso la semanata che... Mollalo, 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 ma sai... Baffan bagna, sto liberato. Ok. Ok. Quanti, quanti? Pestiamo, pestiamo a palla qui perché... Mamma mia, quanti ragazzi, eh. Stanno scendendo tutto il blocco dei fetenti. Mamma mia, devo uscire da qua perché se no... Stanno letteralmente massacrando. Mamma mia, ragazzi. Dai, diamo una mano. Vai, forza. Ok. Bella sermata. Oh, merda, questo sta pestando come... Ce l'ammazza. L'ha messo giù e lo continua a pestare. Sta arrivando altro e io cerco di coprire, eh. Mamma mia. Valanghe di... Di... Come si chiamano questi? Scam... 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 Bastarde. No, devo dire che come appassionato del Warhammer Fantasy... Tutti i vari... Le varie texture, personaggi, sia principali che nemici, Ci sono riprodotto la perfezione, per chi come me poi li conosce. Può anche dire anche il discorso dell'assassino, dei vari scavencoli guerrieri pesantemente, insomma. Ragazzi, di qua si sale. No, io ti ascolto, eh. Di qua si... Tranquillo io. No, perché è interessante quello di... Ne sai sicuramente più tu che io di questa roba qui, perché... Qui c'è una bomba, possiamo pingarla? Ok. Magari se la prende qualcuno, spero che la prendano in modo che... Il gruppo può andare avanti. Avete visto come ci hanno pestati a sangue comunque, eh? Ma il livello qual è normale? No, il livello normale. Infatti il nostro sogno e mio è quello di Sermatex E un giorno far riuscire a farlo a livello massimo, insomma. Sì, guarda. Io ho provato una volta la version nightmare. È impossibile. È una cosa, sto. Che già così veramente ti sfondano. Ma poi perché non c'è la registrazione male è prima in partita che abbiamo fatto, c'è molti troppo due secondi. Sì, 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 due secondi. E adesso infatti abbiamo preso dall'inventario, guardate, abbiamo preso praticamente delle armi un po' più potenti, insomma, verdi, che sarebbero un po' più rare. In realtà prima ne abbiamo provato anche a craftare, che è stata una cosa emozionante, bella. Usando cinque armi normali, che ti vengono droppate più o meno a ogni missione, praticamente se le unisci, insomma, te ne dà una sola, diciamo, rara. E questa è la cosa bella, perché se uno è sfigato e rolla i dadi sempre male, diciamo, il fatto che tu giochi tanto, comunque ti premia, giusto Matteo? Sì, 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 sì. Alla fine, cioè, se tu giochi tanto, sei sfigato, va bene, ma puoi craftartela da te, più lentamente, ovviamente, di chi ha il culo, ma puoi farlo. Quindi questa cosa... Ma dopo tutto dipende anche da trovare qui i famosi libri e dadi. Ecco, guarda, un tomo, come si dice? Oh merda, però aspettate, raga. Io... Oh cavolo! L'ho trovato e se l'è ciullato quello, vabbè, chi se l'è preso... No, il tomo diceva, la cosa bella, che il tomo dà un'arma a tutti, se non sbaglio, giusto? Sì, sì, sì. Boing, mamma. No, l'ha preso! No! Tocca da l'aiutare. Ok. Un merda. C'è chinato, eh? Vi piace il mio fucile, eh? Due le ho seccate in linea. Ah no, uno, aspetta, era l'arma. Ho contato l'arma come una persona. Non ci vedo. È grossa quanto lui. Vabbè, quindi concentrati, ragazzi. Come vedete, noi non ci divertiamo affatto. Non ci divertiamo affatto. Stiamo qui a fare i seri, insomma. Dove sta questo? Questo ha sparato. No! Ho cercato di ferirlo. Grande, grande. Eh, ma lento. Oh, merda. Chi è questo? Il cugino dell'assassino? Bastardissimo. Vai. Pesta, pesta. Sì, è proprio un po' tra di loro, quindi. Sì, infatti. Eccoci. Ok. Buono, buono. Ok. Mamma, arrivano. Ok. Arrivano anche di qua. Ne arrivano tanti. Tanti amici. C'è qui la festa, proprio, eh. Mamma mia. Sì, mamma mia. La cosa brutta è che io, purtroppo, a me mi rallento un po'. Prima mi stavi consigliando un... Qualche programma migliore di... Di action. Perché a me mi fa... Eh, sì. Per registrare. Mentre a fine GeForce, eh. Quella di salprenenza di Shadowplay, è molto più leggero. Devo provare, cavolo. Addirittura, c'è una modalità, che praticamente, anche se te non inizia a registrare, ma ce l'hai acceso, registra gli ultimi 20 minuti di gameplay, quindi, ad esempio, te fai l'azione, c'è chi magari dici cazzo e non registrare. Ah. Prevendo quel pulsante, probabilmente, con quello a fare, quel programma, registra automaticamente gli ultimi 20 minuti di gameplay, e ce l'hai uguale, anche se te non hai premuto la registrazione. Buono. Questo è buono per fare... Quando ti vengono i super trick. Eh, bravissima. Cioè, che tu dici, cavolo, non stavo registrando tipicamente una kill a due chilometri. Sai, magari... Non la farò mai più, e invece, poi... Esattamente. Non uso quella, mi stavo abbastanza bene. Diciamo, per agevolare proprio i youtuber, probabilmente. Ah, c'è una cassa di munizioni che mi farebbe piacere capire dov'è quella cassa lì. Eh... Vediamo. Ok. Oh, mamma. Boing. Ah, qui c'è anche una... Se mi proteggete, posso prendere... Ok, prendo quest'altra. Ok, grazie. È morto così. Ma chi è che spara? Spacchiamo... Spacco pure la porta io, perché sono una bestia. Una bestia nanica. Ah, beh, ma ci sono già passati. Eh, sì. Sì, ma non ci separiamo con quegli altri due banali? Eh, no, sono lassù che ci aspettano. Ok, andiamo. Che dicevo? Noi facciamo i cazzi nostri, loro questi... Dei italiani, te merta. Eh, sì, infatti, lo facciamo sempre riconoscere. Eh, stavamo arrivando, stavamo arrivando. Ok, dove andiamo? Io e te, penso dobbiamo salire più in alto, quindi di qua. Ah, dobbiamo andare sulla destra? Sì, 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 qui. È un casino questo... L'hanno fatto questo... Oh, merda, chi è? Hanno fatto questo quadro qui, che è particolarissimo, perché... Oh, mamma. Oh, ma chi hanno preso? Ma chi hanno preso, cavolo? Merda, no, lascialo, bastardino. Oh, e muori. Oh, cavolo. Tutto a posto? E muori. Comunque, è... È leggermente violento, c'è un leggermente violentino. Qui c'è una scala, ragazzi, eh, volendo. Ah, così, proprio. Butti i tuoi furti. No, no, era del legno, era del legno. Ma non so, chissà, se la parla da passare di lato? Ma qua c'è un altro punto. Ma che fumo. Fa talmente fumo il mio fucile, il mio enorme fucile, che a volte non vedo se ho colpito o no. Fa una fumata. Questo qui è bello perché arriva pure a una certa distanza. Questo, diamo una mano. Vediamo. Che c'è un buco, qui nel buco non ci si va. Ehi. Vieni, vieni, Matteo, qua. Qua mi sa che la strada è giù. Sì, dobbiamo buttarci di sotto, secondo me, qua. Ci sei? Eh, non rimanere lì perché sennò... Ecco qui. Oh, mamma, figurati. Mamma mia, che sta arrivando, ragazzi. Questa ambientazione è bellissima. No, è bellissima. È incredibile. Io sto cercando di... Guarda che c'è, bastardo. Questo è tosto, eh. Questo qui ha questa armatura che è una cosa oscena. È veramente tosto. Effettivamente è un punto debole che dobbiamo ancora capire. Sì, io ho provato a colpirlo di lato. Sicuramente gli fai molto più danno, però... Diciamo che... Ai, 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 ai. Oh, cavolo. Oh. Porca miseria. Lagatissima, lagatissima. Non ci capisco più niente, cavolo. Ne stanno arrivando da tutti i punti possibili, immaginiamo. Si capisce quasi niente, ragazzi. Oh, no, ce lo spara a cose. Dov'è? Ah, ecco che... Vai, seccato. Oh, merda. Oh, merda. Non c'ho un po' tutto. Eh, non vedo niente. No, 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 no. No, 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 no. Lasciate stare Matteo. Che dobbiamo fare il video. Non potete ammazzarlo. Testa di cazzo. No. No. Eccolo. Vieni su, vieni su, amico. Alzati. Oh, qua. Figurati. Oh, un altro coglionazzo qui, eh. Ah, ci sparo, vaffanbù. Schiacciato. Quello lanciava delle... Delle puzzole, non so. Cos'è? Chi è che sta a terra? Ok. Abbiamo seccato. No! Maggia la miseria! Che casino. No. No. No, è un casino, ragazzi. È un casino qua, eh. È un casino. Io non... C'è un medicino, un tomo qua. Lo prendo? Eh no, aspetta. Allora. Sì. Questo... Questo libro ci... Che è successo? Aspetta, dove sta andando quello lì? Dove va? È pazzo. Aspettaci! Vieni, vieni dentro, vieni dentro qua. Cioè, qua li possiamo contenere più o meno. Oddio. Ho detto una cazzata. Che vuoi contenere? Eh, ma è un coglione. Se l'è andato da solo. Inizia a correre. Ok. Ok. Andiamo a prenderlo. Ma perché vai via da solo così? Ah, è andato a liberare. Si è fatto prendere dalla frenesia. È andato a liberare il tipo. Rischiando tantissimo perché... E come si arriva lì adesso? Così. Così. Allora... Io non ho vita. Cioè, sono proprio russo. Oh. Ha le spalle, vero? Tieni. Aspetta, fammi uccidere. Dopo uccido e raccordo. Ma non è morto? Perché? Ecco. Uccidilo. Perché? Meglio così? Sì, perché non avevo proprio zero di vita. Almeno così un po' me ne rigenera. Ah. Rianimandomi. Questi sono i trucchi. Il mate se ne inventa... Se ne inventa tutte. Praticamente si fa... Per un po' di energia... No, qui ci siamo già stati. Saliamo su. Dobbiamo stare uniti. Quanti ne siamo? Tre. L'altro è morto. No. Quattro, quattro. Ok. Siamo messi proprio male. Però. Cerchiamo di guardare bene in giro. Questi corrono come pazzi perché... Sì, la voglia di esplorare la mappa, insomma. Eh sì, però dobbiamo... Ma che non sono anche... Vabbè, di uno è un bel livello... Comunque non è un po'. Oddio, perché è tutto così al contrario? Hai visto? Guarda qua che tripping credi c'è. Ok. C'è un'arma... Ehi, maga, dimmi grazie che ti ho salvato il culo, ok? Non si è neanche accorta, vabbè. Vedi, lo fatti sempre. Le donne sono sempre così, lo dico io. Allora, è vero, c'è il mio cecchino, c'è il mio cecchino. BOOM! È bestiale sto fucile. Io non immagino quelle armi epiche che sono blu. Secondo me devono essere di una potenza assurda. Madonna, sì, è vero. Oh, oh, oh. Ma c'è, guarda lì, c'è proprio lì secchi come... Vai, giù, c'è, c'è proprio esistiamo, ok. Usa lo sterminatore per un po' l'occhio, vero. Cioè, stiamo proprio sfondando, questo. Allora, c'è, eh, cassa di munizioni qua. Sì. E anche qui c'è una cassa, è qua dietro, ragazzi. Munizioni, ok. Ma questo è l'assassino, occhio, quando c'è distinumere l'assassino. Ok, hai fatto bene a dirlo, pensavo fosse mia moglie che mi avvisava di andare a letto. Oh, cazzo, no. Preso. Madonna, che cieco. Mamma, questa arriva lontano. I fucili iniziali sono a corto raggio. Eh, però non vale. Voi prendete tutto. Dici, graziate, io devo portare il libro per voi, eh. Brutte merdacce, va bene. Ebbene, bene, ragazzi, ci fermiamo qui per adesso con Warhammer e Sermatex. Un appuntamento alla prossima puntata. Spero che vi siate divertiti come ci siamo divertiti noi, ma non mancate la prossima puntata perché ce ne saranno veramente di tutti i colori. Non potete mancare. A presto. Mugellin, l'ultimo dei talebani napoletane. Mugellin, l'ultimo dei talebani napoletane.